Bentornati a Ciper TV, siamo ancora a Cosit Pescara, sono sempre Alex, dopo il benchmark di ieri oggi ci dividiamo il lavoro con un compagno. Il WOD è quello del 23 agosto e iniziamo con 200 metri run o raw o bike. Performiamo 15 Russian Swing, 10 Squat Jump e 5 Step Up Box. Il WOD è per un team da due e ci dividiamo il lavoro quando sentiamo la necessità e il bisogno per un miglio di Assault Bike, 100 Wall Ball, 75 Kettlebell American Swing, 40 Box Jump Over e torniamo a salire con 70 Kettlebell Swing e 100 Wall Ball. Il carico per i beginner, per i novizi è di 16 kg per il Kettlebell, 12 le donne, 6 kg la Wall Ball e 4 kg di Wall Ball per le donne. Un atleta di medio livello può lavorare, consigliamo 24 kg di Kettlebell e 16 la donna, una Mad Ball da 9 e una da 6 per la donna. Mentre un atleta di alto livello, un atleta elite, 32 di Kettlebell, 24 per la donna, 12 di Mad Ball e 9 per la donna. Grazie e spingete e non fate riposare troppo il vostro compagno.